Salvatore Parolisi rimane in carcere. L'ha stabilito la Corte di Cassazione che ha confermato l'ordinanza di custodia catelare del Tribunale del Riesame dell'Aquila emessa nei confronti del caporal maggiore dell'esercito accusato dell'omicidio della moglie Melania Rea. Non sono serviti dunque gli argomenti portati avanti dai legali del militare Walter Biscotti e Nicodemo Gentili che hanno sostenuto che esisterebbero dei difetti di motivazione nell'ordinanza di custodia catelare in carcere emessa prima dal GIP di Ascole e poi dal collega di Teramo. Difetti che partivano dall'ora della morte stabilita dal medico legale Vriano Tagliabracci. Inoltre la difesa del caporal maggiore in questi giorni aveva puntato sul referto sulla coscia destra di Melania Rea dove sarebbe stata trovata una striscia di sangue che sarebbe stata lasciata da un polsino di un indumento a manica lunga con zigrinature. Parolisi invece avrebbe indossato quel 18 aprile giorno della scomparsa di Melania una maglia a maniche corte. Una tesi difensiva che però evidentemente la Cassazione ha bocciato. Soddisfatto di quanto è l'avvocato della famiglia Rea Mauro Gianni quanto avvenuto il riconoscimento che non è un processo fondato sul nulla come qualcuno vorrebbe far credere evidenzia lo stesso Gianni che spera che cessi così quello stilicidio di notizie su presunte inesistenti novità quando invece tutto è noto da tempo pur nella legittimità delle distinte valutazioni e posizioni. Gli indizi sono gravi e precisi evidenzia Gianni e concordanti sulla unica responsabilità di Parolisi certo è necessario che passino per il vaglio di un normale processo come fisiologico che sia l'avvocato infine chiede più rispetto per tutti a partire dalla famiglia della vittima.